Sporco di vino, unto... Ma è sporco impossibile in lavatrice. No, non esiste sporco impossibile. Non ci credete? Facciamo una prova. Proprio su questo sporco facciamo addirittura un nodo e lo mettiamo in lavatrice. Ma con biopresto lavatrice. Biopresto lavatrice liquida lo sporco impossibile in profondità. A proposito, avete visto il bustino rettangolare? Ciao Marta. Ciao. Ho ripreso biopresto lavatrice. Te lo dicevo, è buonissimo. Avevi ragione. Adesso che ho visto i risultati non lo lascio più. Per farmelo provare ci voleva il bustino rettangolare. Ehi, quante come lei. Sapesse quante ne vendiamo di fustini di biopresto lavatrice. È davvero più comodo da portare. Sta proprio dappurtutto. E in casa sta anche negli angoli. Non è un'idea intelligente? Ma ora torniamo alla nostra prova. Ecco, andiamo a vedere dentro il nodo. Visto che è pulito? Mientissimo! E così federe, tovaglie, tutto il bucato. Non esiste sporco impossibile con biopresto lavatrice. Il bustino rettangolare.